L'impatto tra i due mezzi è stato tremendo, talmente violento da non lasciare scampo al 25enne di Francavilla Fontana, Cosimo Scialpi, detto Mino, morto sul colpo a causa dei traumi riportati nel terribile scontro tra la sua moto Honda e la Jeep guidata da un altro giovane di Corato che viaggiava insieme alla sua famiglia. Il drammatico sinistro nella tarda mattinata di domenica intorno a mezzogiorno su Viale del Commercio, zona PIP della città degli Imperiali. Per cause ancora tutte da accertare, la moto guidata dallo sfortunato giovane proveniente dal centro abitato all'altezza della rivendita centro Casalinghi si è andata a schiantare frontalmente contro il piantone destro della Jeep che procedeva in senso opposto. L'impatto è stato violento per il giovane Centauro sbalzato dalla moto sull'asfalto. Non c'è stato nulla da fare nonostante l'arrivo tempestivo di un'ambulanza del 118, illeso il conducente dell'auto e due suoi familiari, ferita invece un'altra ragazza seduta sul sedile passeggero anteriore del fuoristrada e poi condotta in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco del locale di staccamento e gli agenti della polizia locale di Francavilla Fontana. Agli uomini del comando guidato dal dirigente Antonio Cito il compito ora di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e quindi attribuire eventuali responsabilità.